Milano attraverso i decenni sa rendere onore a coloro che l'hanno onorata in momenti terrificanti, mostruosi di dittatura, di morti ingiuste, di persecuzioni, le leggi razziali ad esempio e sono stati sacerdoti religiosi che hanno addirittura vissuto la carcerazione in San Vittore. Sì, io penso che questo sia anche una responsabilità che Milano ha, quella di onorare chi l'ha resa la città aperta e democratica che oggi è e io credo anche nel racconto di queste esperienze che sia esemplare anche per i tanti che costruiranno la Milano di domani. Questo è un libro che potrebbe andare nelle scuole? Sicuramente, nelle scuole, negli oratori, nelle associazioni, credo ovunque ci sia voglia di tornare a raccontare quanto sia bello impegnarsi per ciò che conta e per i valori a cui teniamo. Lei ha delle responsabilità alte come vice sindaco di Milano, sente che in fondo il tessuto della metropoli è sensibile su questo, è vivo, non è coinvolto in fenomeni di razzismo se non marginalmente? Allora, diciamo che è necessario prendere consapevolezza che sicuramente c'è bisogno di impegnarsi tanto e che ciò è faticoso, però credo che sia anche un po' nell'animo dei lombardi, dei milanesi in particolare, quello di rimboccarsi le maniche per quello che ci sta a cuore. Ecco, io questo lo sento molto e credo che abbiamo bisogno di dircelo un po' di più, anche per esserne orgogliosi, perché quando si dice Milano con il cuore in mano non si dice una Milano superficiale, così un po' frivola, ma si dice una Milano che sa voler bene prendersi cura. Grazie.